Io provo qualcosa di forte, una cosa che non si può controllare da distanza. Ovviamente dobbiamo ballare per migliorare, ma io vi informo che bisogna accettare di essere se stessi, sempre. Ciao a tutti, sono Paolo Nicolosi, ovviamente mi conoscete perché soltanto per il mio nome di arte di danza, Pablo El Bono. Sono di Acquedolci, Messina e ho 18 anni e mezzo. La mia grande passione è ballare e vorrei farlo vedere e dimostrarlo a tutti voi. Si chiama Paolo e viene da Acquedolci, comunica grazie alla passione della danza come unico grande amore. Fin da piccolo ho capito di provare delle forti emozioni nella danza. Ballare è, che dire, impegnarsi tanto, allenarsi e io ci metto cuore e passione e anche anima. Quando ascolto la musica la mia anima comincia a vibrare e non posso stare fermo perché la danza fa parte di me. Grazie alla sua simpatia riesce a superare qualsiasi problema della vita con un semplice segreto, sorridere. Prima un piccolo tocco di mano, poi un piccolo scottimento, un po' e poi tutto. E poi una guarda la mano perché sono Pablo El Bono, perché vorrei capire che io sono quello che sono. E bisogna accettare di essere stessi sempre e di guardare sempre il futuro che viene. Mi sembra giusto che pensare con le nostre teste, non che una persona decise a molto suo con gli altri. Non mi sembra giusto, io direi. Direi che non mi piace essere diverso nei confronti delle altre persone. Al giovane artista piace prendersi cura di se stesso e di vivere sempre la vita con momenti di gioia e mai tristi. Io sono un tipo romantico, onesto, anche nei confronti delle altre persone. E sono anche un tipo piccante. Ho proprio i gusti di donne. La mia partner è uno schianto, per esempio, l'intelligenza, la bellezza, la classe, come si veste, ovviamente ti dico una favola. Riuscire ad essere sempre se stessi, affrontare la vita e guardare avanti, viverla come un dono straordinario. Nella mia vita non ho mai avuto dei ostacoli e se fossero stati dei ostacoli per ostacolarmi, ti assicuro che io vorrei migliorare le mie capacità di ballerino. Con la giusta determinazione e il coraggio, io direi, perché il coraggio ne ha abbastanza. Ti senti una bestia? Per dire la verità, sì. Io mi sento una bestia furiosa. Perché quando mi muovo, comincio a freddre mare la terra. L'esperienza di Baranto con le stelle, ti dico, è una cosa che vorrei rifarla ancora. Video di Millie. Quando lei mi ha detto, sai che sei un gran tipaticone? Sì, e tu sei una bella bionda. Lì io ho fatto esplodere il palco e tutto il resto. Paolo lancia un messaggio a tutti i giovani che seguono i sogni di ballare la vita perché la vita balla. La danza per me provo un'emozione troppo grande. Mio sogno è diventare un ballerino professionista della danza mortena contemporanea. Lo so come io dico sempre, balla la vita perché la vita balla. Un grazie a tutti voi che mi state guardando, ovviamente da dietro a questa telecamera. Quindi un bacio e un abbraccio a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.